5, 4, 3, 2, 1, via, sinistra 5 si restringe, diventa 3 dopo il bivio, con ETA stai all'interno, destra 1 lunga si apre, 100 su crinale, sinistra 5 lunga si restringe, diventa 4, 60, destra 4 lunga 130 su crinale, destra 5 lunga 130 su crinale, sinistra 3 poi sinistra 2 lunga e sinistra 4, in destra 4 lunga si restringe, diventa 3, sinistra 6, 60, destra 5 si restringe, diventa 4, sinistra 5 crinale 80 e sinistra 3 in media 100 attraverso Tunde, destra 4 si restringe su CUNETTA, in destra 6, sinistra 6, destra 4 si restringe subito tornante destro, in sinistra 6, intornante destro medio, destra 6 per cento, sinistra 4 60 su crinale, destra 5 si restringe, diventa 4, in sinistra 3 si apre, destra 5, in attenzione sinistra 5, destra 1 lunga non tagliare, in sinistra 3 lunga 100, destra 3, destra 3 su crinale 60, destra 3 poi destra 3 su crinale 60, destra 4 60, sinistra 1 lunga, in destra 4 lunga, e sinistra 5 lunga, e destra 4 lunga, in sinistra 6 60, destra 6, sinistra 5 lunga su crinale, in sinistra 6 media, destra 5 60, destra 6 subito tornante sinistro, lastra di ghiaccio da qui, in destra 6, in sinistra media, stai al centro su crinale, 150, tornante destro, 100, sinistra 6 lunga, tieni la destra su crinale, 80, fai molta attenzione, destra 5 si restringe, diventa 4, sinistra 3 si restringe, su punetta non tagliare, destra 6 crinale, sinistra 6 si restringe, in destra 5 non tagliare, e sinistra 5 poi destra 4, in sinistra 2 si restringe, 150, destra 6, in destra 4 si restringe, diventa 3, sinistra 1 si apre 100, destra 5, e sinistra 6 poi destra 5, in sinistra 5 lunga, si restringe, diventa 4, e destra 2, destra 1, sinistra 3, 150 su approssamento, tieni la sinistra su crinale, tieni la destra su crinale, destra 6 lunga, si restringe, diventa 5 e continua 80, sinistra 5 lunga, su crinale 60, tornante sinistro, in destra 3 lunga, si apre 100, attenzione, sinistra 5 lunga, su crinale, curva difficile, bombessa, e sinistra 5 media, si restringe subito, tornante destro, 80, destra 5 media, sinistra 4 e destra 4 media, 80 su crinale, sinistra 4 lunga, 100, tieni la destra su crinale, 80, destra 6 lunga, 60, attenzione, sinistra 4 media, scivoloso, e destra 5 media, su crinale, sinistra 4, e attenzione, destra 6 continua 100, non tagliare, intornante sinistro, 100, sinistra 6 lunga, e destra 4, ancora lastre di ghiaccio da qui, in sinistra 5 media, non tagliare, e destra 4 lunga, in attenzione, sinistra 6, non tagliare, crinale, in destra 3 si restringe, diventa 2, sinistra 4 lunga, non tagliare, destra 3 si restringe, diventa 2, 80 su crinale, sinistra 6 continua 100, su crinale, 80, attenzione, sinistra 4 lunga, poi tornante destra, sinistra 6, e destra 4 lunga, e destra 5, sinistra 6, destra 6 media, su crinale, 80, crinale, sinistra 1 media, 100, strada e ghiacciata da qui, sinistra 6, su crinale, 60, caudella, destra 5 si restringe, diventa 4, non tagliare, sinistra 6, poi destra 6, sinistra 5, 60, sinistra 4 lunga, su crinale, continua 80, tornante sinistro, 60, destra 5 lunga, si restringe, su crinale, e continua, in sinistra 5, 130, attenzione, tornante destro, 100, stai al centro su crinale, sinistra 6, 60, sinistra 4 lunga, destra 5 stai all'interno, sinistra 6 media lunga, stai all'interno, 100, attenzione, destra 6 lunga, su affossamento, frena, tornante sinistro, 100 salita, sinistra 6 media crinale, attenzione, sinistra 6, destra 5 si restringe, e poi tornante destro, 60, sinistra 6, 60, destra 6 lunga, poi sinistra 6, e destra 3 lunga, crinale, destra 6, 80, sinistra 5 lunga, stai all'interno, e destra 4 lunga, 80 su crinale, sinistra 4 lunga, sinistra 4 lunga, crinale, in destra 4 si restringe, diventa 3, in sinistra 4 lunga, stai all'interno, destra 5 lunga, sinistra 5 media crinale, destra 6 lunga, sinistra 5 media, 60, curva a destra 1 a traguardo,